Lieve aumento dei contagi nei comuni del Vesuviano. A Torre Annunziata si registrano infatti 10 nuovi casi di contagio da Covid-19, affronti 71 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 14,08%. Non si registrano guarigioni. Sono 37 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate fino ad ora sono 50.988. Sono 4.642 le persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 4.511 guarite e 94 decedute. Stabile invece il bilancio a Torre del Greco. Secondo l'ultimo bollettino si registrano tre nuove guarigioni, certificati anche tre nuovi casi di positività al Covid-19. Attestato inoltre il passaggio di un soggetto positivo dall'isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Muta così il bilancio della 557 giornata consecutiva di attività del COC. Totale ospedalizzati 13. Totale in isolamento domiciliare 91. Totale guariti dal Covid-6750. Totale decessi 176.